italiani che giustamente boicottate i prodotti di profumeria dei paesi sanzionisti ecco una coltivazione e un'industria di carattere prettamente nazionale che fruttano un olio essenziale dal profumo squisito quello del bergamotto varietà di arancio amaro che ha bisogno del nostro sole per maturare e dalla cui buccia profumatissima si ricava l'essenza indispensabile alle colonie più fini e utilissima anche nel campo farmaceutico come disinfettante la lavorazione del bergamotto si fa d'inverno presso le 1500 aziende agricole in cui è questa cultura che copre circa 2500 ettari con un milione di piante ed occupa varie migliaia di coltivatori a Grazie a tutti. Grazie a tutti.